Douglas Costa prova a dare una sferzata al match Douglas Costa in due attorno a lui, la palla verso CR7, va Ronaldo all'aggancio Ronaldo dentro per Gonzalo Higuain, va il pipito, attenzione, Higuain la conclusione viene ribattuta da Candreva che poi in un secondo momento la allontana Alexandro, Alexandro prova a transitare, ce la fa in qualche modo per Higuain Matuidi se la sistema verso Alexandro, può andare al cross, no dentro il pallone per Matuidi Matuidi la mette in mezzo, deviazione, Ronaldo ancora lì, il tiro la pari in rete la Juventus ha in vantaggio, Albitro numero 9, il gol di Ramsey, Juve avanti Aaron Ramsey, il pallone all'interno dell'area di rigore, sparato in porta dal giocatore gallese, 1-0 Juve, Ramsey il più lesto di tutti a metterla dentro per il vantaggio della formazione bianconera, terzo gol in campionato il più pesante in assoluto per Aaron Ramsey, ripetiamo qui Matuidi, gran pallone dentro Ronaldo non riesce a calciare, Aaron Ramsey sì, che va a battere Samir Andanovic e sblocca il match a favore della Juventus, 1-0 49esimo gol in campionato per la Juventus il terzo in questa stagione all'Inter, qua ripetiamo bravo anche Ronaldo a saltare allevarsi nel momento in cui ha calciato il centrocampista gallese al quarto gol con la maglia della Juventus in questa stagione, come detto 3 in campionato, 1 in Champions League, questa è la sua esultanza Juve avanti, proprio nel miglior momento della cara dell'Inter il gol di Ramsey Ronaldo in scivolata, palla fuori, dall'altra parte l'apertura per Young torna a cambiare gioco dopo un bel po' di tempo l'Inter Eriksen, Eriksen tra le linee per Lautaro Martinez dentro il pallone, impreciso per Lukaku, recupero della Juventus dietro con Szczesny, con pazienza la Juve Alexandro, nonostante la pressione allora spara in avanti il pallone colpo di testa, Higuain si mette nella posizione giusta per servire Matuidi Ronaldo, buona sponda per Rodrigo Bentancur Bentancur con il mezzo esterno a cercare Paolo Dybala una palla deliziosa, Dybala, mette giù un pallone super Dybala, punta la porta, Dybala con la punta di piede per Ramsey Ramsey di nuovo per Dybala, attenzione Dybala, dribbling Dybala, il raddoppio della Juventus Paolo Dybala, un gol fantascientifico al 22esimo minuto nel corso del secondo tempo il raddoppio della Juventus un gol meraviglioso, sensazionale di Paolo Dybala 2-0 gol veramente fantastico di Paolo Dybala una meraviglia per gli occhi è entrato, subito decisivo questa risultanza con Gianluigi Buffon un gol da vedere, da rivedere per la fattura straordinaria è dato palla incredibile di Bentancur per Dybala, che inizialmente mette giù una palla già super lì e poi con grande personalità la Juve, Dybala qui, gran dribbling e palla in buca sul palo lungo il raddoppio della Juventus 2-0, Dybala per Dybala, tredicesimo gol stagionale settimo in campionato ottantesimo totale in Serie A novantunesimo con la maglia della Juventus in 216 partite in casacca bianconera è un gol stupendo stupendo da vedere e da rivedere 2-0 Brozovic bastoni De Vrij grazie a tutti grazie a tutti